Il popolo d'Italia Viva Catanese ha raccolta per riorganizzare il partito ai piedi dell'Etna e in Sicilia. Lo spazio c'è, assicurano i simpatizzanti in sala, ma dobbiamo ricominciare a parlarci, a dire come la si pensa. Dalla crisi si esce con il coraggio delle nostre idee, perché siamo convinti di ciò che diciamo, ribadiscono. Ma come punto di partenza c'è il sostegno al governo Draghi, dopo la crisi innescata dai Cinque Stelle. Sullo sfondo, in maniera chiara, ci sono le prossime tornate elettorali, a cominciare dalle regionali. Per Italia Viva è sempre il momento di dire come la pensa, anzitutto. Con chi stare, dal nostro punto di vista, viene dopo. Staremo con chi, come noi, ha voglia di cambiare in positivo questa terra, di non perpetrare ancora i ritmi e le ritualità che hanno trascinato la Sicilia e Catania in una condizione che è sotto gli occhi di tutti. Quindi diremo come la pensiamo e a partire da questo stabiliremo con chi stare. Il centro-sinistra si è chiuso, il centro-destra politicamente è scadente. Ne hanno per tutti e per questo rivendicano con orgoglio le scelte fatte, ma di sopravvivenza di partito non ne vogliono assolutamente sapere. Al 40% erano altri tempi. Come si vede in politica, è capitato a Salvini, è capitato al Movimento 5 Stelle, capiterà alla Meloni. Si cresce e si cala con una facilità estrema rispetto al passato in cui eravamo abituati a partiti politici che mantenevano ideologicamente la loro struttura nel tempo. Noi abbiamo il dovere di costruire una forza centrista, moderata, che rappresenti le politiche del governo Draghi e lo spazio politico per questa forza è veramente grande, altro che sopravvivenza. Io credo che sia una forza possibilmente maggioritaria in questo Paese. Grazie a tutti.